E Sarda la prima nata del 2017 si chiama Nicole ed è venuta al mondo con un parto naturale a mezzanotte in punto al Policlinico di Monserrato. E Sarda la prima nata dell'anno è venuta al mondo a mezzanotte in punto al Policlinico di Monserrato, si chiama Nicole. Vediamo il servizio di Valeria Papitto. Sono felicissima, non ho parole. È nata a mezzanotte in punto, si chiama Nicole Serrao, è lunga 43 cm e pesa 2,4 kg. È una piccola Sarda, la prima nata in Italia del 2017, venuta alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che chiude il 2016 con la cifra record di 1720 parti. Mamma Ilaria e papà Igor sono arrivati al Policlinico ieri sera all'ora di cena, quando il travaglio era già iniziato. Non eravamo neanche pronti per il cenone perché comunque avevo già le contrazioni dal 24, ci stavamo un po' così così. Infatti quando siamo arrivati qua mi hanno detto che siamo andati in sala a parto e ci sono rimasti. Cuoco stagionale lui, casalinga lei, i due nuovi neogenitori di Villa Salto sono già mamma e papà di Milen, una bimba di due anni e mezzo che aspettava la sorellina per la Befana e che invece ha avuto il più bel regalo per il nuovo anno e con lei tutta la Sardegna. La piccola Nicola è stata messa in incubatrice perché lievemente sottopeso, ma i medici assicurano che la prima nata d'Italia è già forte e in salute.